pacchettino appena arrivato da amazon andiamolo ad aprire vediamo cosa c'è dentro ragazzi ragazze questo è uno dei prodotti più fighi sembra curioso che hanno fatto negli ultimi tempi ma ve lo faccio vedere subito dopo la nostra fantastica sigla intanto lasciate un like e iscrivetevi al canale youtube allora per prima cosa li andremo a mettere due batterie ammettere e poi vediamo che cosa è questo fantastico prodotto prodotto italiano questo fantastico pinguino a forma di cartone di latte va posizionato nel vostro frigorifero adesso andiamo a mettere mettiamo il tasto on quindi questo tastino va su on lo mettiamo qui e chiudiamo il frigo adesso andremo a riaprire il frigo e vediamo che cosa accade parla quindi riapriamo il frigo ti avvisa che da tanti messaggini importanti ogni volta che abbiamo ancora tu vedi ogni volta che avremo il frigo ti darà un messaggio simpaticissimo inoltre se lasciamo la porta aperta lui ci dovrebbe avvisare chiudi che c'è corrente vedete chiudi e c'è corrente ti avvisa se lascia la porta aperta in questo caso il mio frigo mi avvise a pulire il frigo vedete un sacco di messaggi mi sto sciogliendo chiudi la porta quindi questo piccoletto vi aiuterà a mantenere bassi i consumi del vostro frigorifero vi avvertirà se lasciate la porta aperta soprattutto se non avete un frigorifero di quelli moderni che vi avvisano con il bip è fantastico ed ha un prezzo davvero contenuto vi lascerò il link amazon quindi se vi è piaciuto questo video e questo prodotto potete acquistarlo direttamente cliccando sul link amazon in descrizione alla prossima ciao